Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max ed eccoci qui per una clamorosa confessione di Antonella Fiordelisi. Ebbene, siamo nell'argomento del momento, grande fratello VIP, nottata abbastanza movimentata nella casa dove i VIPoni si sono un sacco divertiti, sapete il periodo, no? Insomma, carne vale, ogni scherzo vale, infatti si sono tutti mascherati facendo tanti e più giochi divertenti e, ma tuttavia, insomma, ci sono anche state delle tensioni tra gli inquilini per la pesante lite che è scoppiata tra Oriana Marzoli, Matteo Diamante e Luca Onestini. Un confronto che ha visto volare parole, parole abbastanza pesanti, accuse pesanti, come quella di essere razzista rivolta a Diamante. Eh, questo è un tutto dire. La discussione ha coinvolto in un secondo momento anche Martina Nasoni che ha avuto un durissimo faccia a faccia con Oriana. L'ex di Daniele Dal Moro ha accusato la modella venezuelana di essere una maleducata per il fatto che sta con gli occhiali da solo in casa e dice parolacce. Martina ha quindi attaccato Oriana e ha detto, mi chiami Coglio. Immediata la reazione della Marzoli che ha risposto, nessuno ti ha chiamato Coglio. Allora Martina c'è andata giù pesante. E quando dici putt. Alle spalle delle persone. Tesoro dimmelo in faccia allora. Insomma. Un disastro. Altro che carnevale. Nel caos anche Antonella Fiordelisi ha parlato con Edoardo Donnamaria e quest'ultimo è andato poi a rivolgersi ai coinquilini dicendo che avevano fatto tutti una brutta figura. A quel punto Oriana è sbottata. Cosa? Ma tu hai capito che Martina mi ha detto che fuori da qui io faccio la patte? Edoardo allora si è difeso. No questo io non lo sapevo. Però anche tu urlavi. La modella quindi ha mandato via Edoardo. Non appena lo ha saputo Antonella Fiordelisi se l'è presa con il gruppo degli spartani, affermando che non si tratta di veri amici. Chi vuole bene non si comporta così. Anche Mikolin Corvaia ha voluto però dire la sua. Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene. La risposta di Antonella è diventata in men che non si dica uno dei momenti più, indimenticabili, del GFVIP. Amore mio i tuoi amici ci vogliono far litigare comunque e non so se l'hai capito le parole di Antonella Fiordelisi non litigheremo mai io e Edoardo. Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli. Già lo facciamo tutte le notti. Pensa quanti figli faremo. Mikol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati. Vediamo fra me e Mikol chi durerà di più. Con il fidanzato. E farà più figli qua fuori. Vedremo fra cinque anni.